Noi stavamo a casa nostra faccia di fare i nostri, oggi è tutto, una donna era insegnante, poi facevi artigianato, cucine, vestiti eccetera, era divertente, producevi delle cose, facevi la cucina e soprattutto suonare i pianoforte e le cevi. E soprattutto suonare i pianoforte e le cevi. E soprattutto suonare i pianoforte e le cevi. Nel 68 ci hanno guadagnato il diritto a lavorare. Nel 68 ci hanno guadagnato il diritto a lavorare. Grazie. 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 Grazie.